In questo numero, la ricetta per controllare la pressione alta. L'obesità costa come le guerre più dell'alcol, il 2,8% del PIL mondiale. Snowboarding, attività tanto affascinante quanto pericolosa. E ancora, omeopatia e cure anticancro, il progetto a Milano. Eseguito in Italia il primo prelievo di fegato al mondo con uso di Google Glass. Ebola, un'app fonde la potenza dei computer per trovare una cura. Il vero o falso di questa settimana parla di osteopatia. E per concludere le news scelte per voi dalla redazione. Continua ad aumentare il numero delle persone ipertese, e questo principalmente a causa dell'invecchiamento della popolazione e dell'obesità. Oggi però controllare la pressione del sangue è più semplice. Purché se ne conoscano bene le cause, si intervenga sull'alimentazione e venga fatto un uso più razionale dei farmaci contro l'ipertensione. Tra le cause potenzialmente responsabili di ipertensione abbiamo ribadito il ruolo, ad esempio, dell'acido urico, dei meccanismi che sono responsabili della produzione di acido urico, e quindi dell'iperuricemia, e del loro rapporto con lo sviluppo di ipertensione. Abbiamo aperto una finestra grandissima e di grande potenzialità e di interesse sul problema del microbiota intestinale. Per la prima volta abbiamo parlato del fatto che le alterazioni della flora batterica intestinale possano produrre sostanze che una volta entrate in circolo possono promuovere l'aumento della pressione e le malattie cardiovascolari, creando quindi un legame straordinario tra gli aspetti di tipo digestivo alimentare e lo sviluppo di ipertensione che non sono solo ed esclusivamente il sale e i grassi. Quindi non soltanto la qualità del cibo, di quello che noi mangiamo, ma anche le modalità attraverso le quali il nostro organismo reagisce all'introduzione di cibo. E questo probabilmente potrebbe rappresentare un aspetto estremamente importante perché è comprensibile come se questo meccanismo è coinvolto la prevenzione possa passare tranquillamente attraverso modifiche delle caratteristiche del microbiota intestinale, ciò che ciascuno di noi può fare ogni mattina mangiando ad esempio un certo tipo di yogurt piuttosto che un altro. Ma non solo. Noi oggi troppo spesso trattiamo pazienti con dosi inadeguate di farmaci o con farmaci che non sono esattamente commisurati alle caratteristiche del paziente, ma soprattutto troppo spesso non usiamo combinazioni di farmaci antipertensivi che invece hanno dimostrato la capacità di ridurre i valori di pressione arteriosa. Quindi da un'applicazione costante delle novità di quello che è palese e degli strumenti a disposizione pensiamo di ottenere un miglioramento significativo del controllo della pressione e questo lo valuteremo alla fine del prossimo anno quando si completerà il nostro progetto 70%, un progetto ambizioso quadriennale che si propone di spostare dal 35% al 70% la percentuale di pazienti con valori presori ben controllati. Come la guerra è anche più dell'alcolismo e dei cambiamenti climatici. L'epidemia di obesità che affligge il mondo, dove circa 2,1 miliardi di persone, cioè il 30% della popolazione, sono sovrappeso extra large, costa il 2,8% del PIL annuo globale. È il calcolo del McKinsey Global Institute che stima un impatto pari a 2.000 miliardi di dollari. I costi finanziari legati all'epidemia di oversize, spiegano i ricercatori, sono in crescita per l'assistenza sanitaria e più in generale per l'economia. La prevalenza crescente di taglie XXL, infatti, ricordano i ricercatori, porta anche ad un aumento di patologie cardiache e polmonari, diabete e tumori correlati allo stile di vita. Il McKinsey Global Institute ha valutato l'impatto di 76 interventi anti-obesità possibili, sottolineando la necessità di politiche ambiziose, di una risposta sistematica e non frammentata all'emergenza. Fra le iniziative prese in considerazione è il controllo delle porzioni per alcuni cibi confezionati e la riformulazione degli alimenti processati a livello industriale dei fast food, misure valutate come più efficaci in termini di anni di vita in salute e produttività guadagnati rispetto alle tasse sui prodotti ad alto contenuto di grassi e zuccheri o alle campagne di salute pubblica. Nella lista degli interventi analizzati c'erano anche i programmi di controllo del peso e di fitness sul posto di lavoro. Lo snowboarding, sport nato negli anni 70 negli Stati Uniti, è oggi molto diffuso anche in Italia. E a sfrecciare sulle piste innevate, facendo evoluzioni molto suggestive ma altrettanto pericolose sulle tavole, è un esercito sempre più numeroso di persone, purtroppo non sempre esperte. Una minaccia per la sicurezza di chi scia, bimbi in primis, che rischia di essere investito, ma anche per gli stessi appassionati di snowboard. Lavorando molto col tronco e la parte superiore, nelle cadute sono più soggetti a provocarsi lussazioni di spalla, fratture e lussazioni di gomito, fratture di polso. Quindi coinvolgono di più gli arti superiori rispetto a quelli inferiori. Però in tutte queste condizioni cosa c'è da dire? Primo, mai affrontare un'attività agonistica, soprattutto un'attività agonistica in velocità come lo sci, senza un'adeguata preparazione pre-agonistica o pre-vacanza di Natale. Cioè è importante fare una ginnastica preparatoria allo sci e non infilarsi gli sci dopo un anno di pausa, perché è a rischio, si è più a rischio di cadere, di non avere sufficiente tenuta muscolare. Quindi l'importanza della preparazione atletica, l'importanza del riscaldamento prima dell'attività sportiva. Molto spesso i danni sono provocati dall'insufficiente riscaldamento. Esiste però un codice deontologico a quale ci si deve attenere. Le società internazionali hanno stilato e si invita a tutti coloro che praticano lo snowboard a praticarlo in maniera responsabile, perché la serpentina a velocità su una pista piena di bambini è un atto criminale. Nux Vomica, Arnica, Calendula e altri medicinali omeopatici per alleviare gli effetti collaterali delle cure per un tumore al seno accade all'ospedale Sacco di Milano, dove da aprile scorso è stato attivato un ambulatorio di terapie omeopatiche a supporto dei trattamenti oncologici, aperto tutti i venerdì mattina. Finora oltre 90 pazienti della Breast Unit hanno chiesto di essere messe in trattamento, spiega l'oncologo Fabio Corsi, responsabile della struttura, e i risultati sono così interessanti che abbiamo deciso di avviare due trial clinici. Corsi si definisce chirurgo oncologo, non certo omeopata, ma dalla mente aperta e con un approccio misto. Per lui l'omeopatia non è una cura per il cancro, ma può limitare gli effetti collaterali delle terapie e supportare il recupero, oltre ad alleviare altri disturbi correlati al tumore senza aggiungere tossicità a tossicità. Nel suo approccio, Corsi punta la ricerca. Gli studi clinici sono essenziali per dimostrare l'efficacia di una terapia anche di quella omeopatica. Per avviare risposte certe, il suo team ha avviato due trial. Il primo prospettico e randomizzato per vedere l'effetto dell'arnica topica e per bocca su sanguinamento e dolore in 160 malate di tumore. L'altro punta a valutare l'efficacia di un pretrattamento con calendula contro le radiodermiti, che si verificano nel 15% delle pazienti sottoposte a radioterapia. Primo prelievo al mondo con la tecnologia Google Glass. L'espianto di fegato è stato eseguito nelle sale operatorie dell'ospedale Careggi di Firenze da chirurghi dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa. Nel corso della procedura, immagini registrate con i Google Glass e riguardanti la valutazione macroscopica del fegato sono state inviate da Firenze in tempo reale a Pisa. Ciò ha permesso di diminuire i tempi tecnici di valutazione dell'organo, riducendo i cosiddetti tempi di ischemia e ottenendo un miglior risultato. I Google Glass sono device che si possono indossare e che permettono di eseguire una serie di operazioni come scattare foto e vedere video, navigare su internet, telefonare e mandare e-mail. Il tutto può essere eseguito con comando vocale, permettendo quindi al chirurgo di avere le mani libere, senza mai togliere dal campo operatorio sterile. Le informazioni sotto forma di testi, immagini, video e pagine HTLM sono proiettate su un prisma posto alla sommità della stanghetta destra. Combattere l'ebola durante la pausa caffè, senza essere ricercatori, scienziati o donatori, semplicemente scaricando un'applicazione che metterà a disposizione, nei momenti di inattività del proprio computer, la potenza di calcolo del processore. Il dispositivo, collegati con gli altri via cloud, lavorerà in tutta sicurezza senza interferire con le normali attività, aiutando il centro di ricerca statunitense Scripps Research Institute a vagliare milioni di composti chimici per individuare suggerimenti per nuovi farmaci per il trattamento di ebola. Il progetto di calcolo volontario è stato chiamato Outsmart Ebola Together e si scarica da internet. I migliori composti emersi saranno testati fisicamente in laboratorio per individuarne l'efficacia nei confronti della reale infezione da virus. I composti più promettenti saranno poi modificati perché abbiano prestazioni ancora migliori, a concentrazioni inferiori e con meno effetti collaterali. Le successive sperimentazioni del farmaco potrebbero portare alla fine ad un medicinale approvato. È vero che fisioterapia e osteopatia sono sinonimi? No, assolutamente sono due cose assolutamente differenti. L'osteopatia ha una formazione completamente diversa da quella del fisioterapista e non è una pratica riabilitativa. È vero che solo gli adulti possono sottoporsi all'osteopatia? No, assolutamente, anzi l'osteopatia ha la sua caratteristica principale quella della prevenzione, quindi noi ci occupiamo anche di bambini, di neonati. Prima si arriva alla consultazione dell'osteopata, prima si può agire in termini di prevenzione. È vero che l'osteopatia cura le ossa? No, il termine l'osteopatia è un po' improprio da questo punto di vista. Non cura le ossa, si occupa della disfunzione osiomatica, si occupa delle disfunzioni all'interno dei vari sistemi che regolano il meccanismo della salute all'interno dell'uomo. È vero che solo i medici possono diventare osteopati? No, per diventare osteopati esistono due possibilità attualmente in Italia. Ci sono dei corsi di formazione a tempo pieno a cui accedono persone che hanno il diploma di maturità e poi effettuano un percorso di formazione a livello universitario. Oppure ci sono corsi di formazione a tempo parziale a cui possono accedere i fisioterapisti o chi è in possesso di una laurea di primo livello di medicina. È vero che è semplice diventare osteopata? Diventare osteopata non è semplice, il percorso formativo è un percorso assolutamente impegnativo e bisogna dire che adesso con la norma uni che diventa accogente nel momento in cui ci si lega la legge sulle professioni non regolamentate prevede anche l'aggiornamento continuo, prevede dei controlli sulla formazione e quindi sicuramente diventerà ancora più serio e impegnativo e un percorso ancora più di qualità. Senza aziende sanitarie non c'è futuro per il Servizio Sanitario Nazionale ma non si può dimenticare che la sostenibilità del sistema dipende dalla capacità di erogare servizi, prestazioni ed interventi sanitari efficaci ed appropriati e dunque vanno integrate cultura manageriale e professionale. È quanto emerge dall'evento Le aziende sanitarie per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale organizzato dalla Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dalla Fondazione Gimbe. Ricercatori statunitensi hanno visto per la prima volta in vivo in topi geneticamente modificati trattati con una sostanza che danneggia i neuroni che se il gene della proteina Cloto viene spento scatta un grave deficit della riemilinizzazione mentre se l'interruttore genetico di Cloto viene emesso a massimo la quantità di fibre nervose milinizzate è due volte di più rispetto a quelle degli animali normali e mette in luce questa virtù della proteina della longevità Cloto che protegge i neuroni dal danno alla guaina milinica provocato da malattie come la sclerosi multipla e uno studio presentato a Boston al meeting Actrim-Ectrims sulla sclerosi multipla Piccole molecole in grado di potenziare l'attività di Cloto sottolineano gli studiosi potrebbero quindi diventare nuove armi terapeutiche per la riparazione della mielina nella sclerosi multipla il tutto attraverso terapia genica ma anche il più semplice impiego di sostanze ad hoc in grado di indurre la proteina a un super lavoro Cloto potrebbe così tessere i filamenti della guaina milinica che riveste i neuroni proprio come la sua omonima faceva con la vita degli uomini Arriva nel piatto attraverso l'assunzione di pesce azzurro vitamine del gruppo B e poco rame la terapia per la prevenzione e protezione almeno parziale dall'invecchiamento cerebrale e la conclusione di un gruppo di ricercatori del Policlinico Gemelli e dell'ospedale Fatebene Fratelli Il rame non ceruroplasminico detto anche libero tossico che nasce da un alterato metabolismo del rame e che il nostro organismo non riesce ad eliminare in alcune persone predisposte è un fattore di rischio modificabile per la malattia di Alzheimer Pertanto una volta accertata la presenza di livelli elevati di questo metallo nel sangue attraverso un test brevettato quello del C4D ora disponibile è possibile intervenire con una dieta specifica spiega Rosanna Squitti ricercatrice dell'ospedale Fatebene Fratelli all'isola Tiberina Squitti è capofila di uno studio condotto dal nosocomio con il Policlinico Gemelli e con il Fatebene Fratelli di Brescia che ha evidenziato come nei soggetti con livelli elevati di rame libero risulti triplicato il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer questa era la nostra ultima notizia per contattarci potete scrivere a salute-adncronos.com grazie per averci seguito e alla prossima puntata